E vi racconto un'altra storia che è successa dopo un non troppo tempo. Sono andato a una conferenza come voi. Ho avuto un lungo volo. La conferenza durava due settimane. Tutto il congresso mi sembrava di essere in attesa di qualcosa. Non succedeva niente però. Assolutamente niente. Al contrario, guardavo. E mi chiedevo ma cosa ci faccio qui? L'ultimissimo giorno Ho incontrato il leader di quella chiesa. Io sono andato nel suo ufficio Io ho incontrato mai con le mani vuote, come vi dico. 15.000 dollari Ho detto Questa è la mia offerta, il mio sacrificio Io sto seminando Abbiamo iniziato a parlare Per qualche minuto E improvvisamente mi ha detto Tornerai a casa E ripete subito Dio ti darà tantissimo denaro Tantissimo denaro E io guardo ma lui mi fermava Si alzato E mi dirà subito E ci darà tantissimo denaro E ci darà tantissimo denaro E continuava a dire Che poi sarebbe cresciuto Questo livello E abbiamo parlato Altri 40 minuti Del mondo spirituale E io uletevo domani E poi me ne sono andato a casa 16 febbraio Era il 16 febbraio Sono tornato Cari amici Il 3 marzo Cioè due settimane dopo Non ci credete ma Dio Mi ha benedetto la casa Con 350.000 dollari E una macchina nuova Una Mercedes di 150.000 dollari Cazалось che questo potesse Non si smettesse tutto lì Invece no E continuava a aumentare Prendeva giri Prendeva sempre più giri Questa cosa Perché a volte Dio Guarda quello che Come tu ascolti La Bibbia c'è scritto Che chi ha Avrà ancora E chi non ha niente Gli verrà tolto Anche quello che pensa di avere E in questo punto Delle scritture Non riguarda il denaro Non riguarda il denaro Ve lo ripeto Non riguarda il denaro Lo vi tolgo anche voi a casa Pocitate внимательно Che dice Cosa c'è scritto Cosa dice Gesù Dice Guardate come ascoltate Eba Dal momento che Chi ha Tommi Avrà ancora di più A chi non ha Tommi 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 Perderà anche quello Che pensava di avere Che pensava di avere